Il nuovo protocollo Cosmeseutical Biorimodellante è studiato per agire sulla rugosità profonda e sul rilassamento cutaneo, segni di invecchiamento particolarmente evidenti nel terzo inferiore del volto. La ricerca bioniche ha scelto il principio attivo delle lezioni degli anti-age, il retinolo, valorizzandolo al massimo con un sistema di triplo retinolo, inserendo retinolo puro microencapsulato nel concentrato, RET-LIFT, e due principi retinol-like nel trattamento reticrimi. L'efficacia del protocollo Biorimodellante, dimostrata dallo studio cosmetoclinico, si traduce in un'importante riduzione della profondità e del volume delle rughe nasolabiali, aumento della compattezza e un indice altissimo di benessere cutaneo, essendo l'idratazione cellulare aumentata di oltre il 100%, efficacia anti-età multilivello quindi, che rimodella il profilo del viso e del corpo.